Taglio del nastro a Terro per il tanto atteso sotto via Carrabili di Cartecchio nei pressi del cimitero comunale. Un'opera molto importante costata 6 milioni di euro e attesa da tempo che ha consentito l'eliminazione di 4 passaggi a livello nel territorio comunale con immediati benefici in termini di sicurezza stradale e regolarità della circolazione ferroviaria. Oggi si inaugura un'opera importante che viene restituita alla città, siamo in contatto continuo e costante con RFI. A loro va ovviamente il ringraziamento nostro per la collaborazione che è stata messa in campo nel corso di questi anni, il ringraziamento che va al sindaco Brucchi, all'amministrazione precedente, a tutto il consiglio comunale nella quale maggioranza e opposizione che ha approvato in unanimità questo progetto, un'opera di sinergia con RFI, l'istituzione comunale, la regione con l'assessore Morra, che dovrà proseguire perché ripeto oggi si inaugura ma il cantiere resta aperto fino a che non verranno risolti tutti i problemi per la città di Termo. Si chiudono 4 passaggi a livello grazie a quest'opera e altre opere complementari, quindi abbiamo chiuso e chiuderemo progressivamente questi 4 passaggi a livello. I passaggi a livello come noto costituiscono una intersezione, interferenza con le altre infrastrutture, pertanto la loro eliminazione costituisce un momento di maggiore sicurezza, nonché irregolarità, dell'esercizio ferroviario. L'unico intervento che ad oggi non è stato ancora completato per il miglioramento complessivo della viabilità sono i passaggi pedonali, situazione su cui RFI ha annunciato l'avvio dei lavori. Questa è un'opera carrabile, la settimana prossima cominceranno i lavori per l'adeguamento del sottopasso limitrofo, che sarà un sottopasso ciclo pedonale, quindi c'è una differenziazione dei traffici a vantaggio della sicurezza. È un'opera importantissima che completa una serie di interventi fatte sul territorio per decongestionare il traffico. Riteniamo che sia un'opera fatta bene, anche sotto il profilo architettonico, e che possa eliminare quei problemi che sono usuali nelle zone dove ci sono dei passaggi a livello. Vengono eliminati i quattro passaggi a livello, quindi si assicura più sicurezza e soprattutto una migliore viabilità sul territorio.